Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano rallentamenti in direzione Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna per lavori corsie di destra chiuse tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Per questi lavori è chiuso anche lo svincolo di Firenze Impruneta in uscita provenendo da Roma in entrata verso Bologna. Nel weekend d'agosto, dalle 14 del venerdì alle 6 del lunedì invece, il tratto e lo svincolo di Firenze Impruneta rimarranno aperti in entrambe le direzioni. A Firenze fino al 29 agosto lavori alla rete del gas in via dell'Oriolo. L'intervento è articolato in fasi con la chiusura a tratti della strada da via Sant'Egidio a via Portinari. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!